nonostante tutto quello che avrebbe potuto organizzare Simone Inzaghi è a casa di Leonardo Fiaschi che ci fai a Livorno? ragazzi non ci ho dormito stanotte perché ho letto un articolo che le nascite dipendono dai successi della squadra del cuore ah l'ho letto anch'io questo studio è un'impennata una vittoria sportiva incide sulla produzione di testosterone induce le coppie a fare più quella cosa lì insomma la scienza quindi ha dimostrato che a nove mesi dalla vittoria della propria squadra nel cuore in molti paesi si registra un drastico aumento di nascite per questo gente come Riccardo Russo i figli da fatti durante l'era Antonio Conte ah 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 va bene va bene quindi scusami ci sarà un risvolto demografico nei prossimi mesi da questa notte a gennaio sai quanti bimbi piccoli nerazzurri nasceranno ieri sera infatti tantissimi uomini hanno cercato di svegliare al proprio amore dicendole amore facciamo l'amore facciamo nascere Lautaro dai facciamo nascere Lautaro prego e lei dormi che sei ubriaco salanooglu beh i tanti lo chiameranno così tanti piccoli michitalian eh sì da alcuni studi infatti sì eh si è sentito proprio questa cosa qua che si nasce di più dove vale l'arancilotti certo ah sì eh certo vince sempre per forza ma poi nasceranno anche bimbi e figli di genitori che però loro erano stabili i mariti giusto? ma adesso ci sono tantissimi dove biancelotti nascono bambini col sopracciglio alzato no ecco è già così quelli perplessi è considerato l'allenatore cicogna diciamoci la verità Simone Inzaghi ha ragione infatti è celebre il fenomeno in America dei cosiddetti figli del Super Bowl dai sono tantissimi sono milioni di tifosi che seguono la finale presi dall'euforia del seratone della finale poi insomma quindi dall'euforia fanno sesso e quindi procreano sì 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 il problema è quando c'è magari marito e moglie che hanno il derby in casa e lì uno deve convincere l'altro ma ci ha portato lo scudetto ci ha portato a casa di Leonardo Fiaschi il suo primo scudetto è già accapparrato come non lo sapeva beh sì sì ho scoperto proprio adesso da Wikipedia che è il mio primo scudetto quindi sono molto contento di aver contribuito con una nuova stella primo scudetto vinto da una squadra durante un derby quindi dai un minimo lasciateci festeggiare